La voce di Patrizio Longo vi terrà compagnia in questo viaggio astrale Lasciati trasportare dalla musica di Sandro Litti Bollettino meteorologico Per chi viaggia in direzione di Marte, pioggia di meteoriti per tutta la zona Per voi che siete sulla Terra e viaggiate comodi nella vostra auto Grazie a tutti